ok benvenuto cosa grazie cosa vorresti fare cosa vorresti portare al gioco in realtà nulla di così eccezionale semplicemente diciamo una campagna che vada dal livello 3 al livello 15 perché livelli sotto a 3 sono inutili livelli sopra il 15 sono troppo complessi che si giochi il giovedì sera dalle 9 e mezza alle 11 e mezza con un gruppo formato da non più di 4 giocatori perché sennò poi si diventa troppo ma non meno di 3 giocatori perché sennò siamo troppo pochi e non ha senso andare a giocare ovviamente vorrei poter usare tutti i manuali indipendentemente da qual è la loro effettivamente pensata per il mondo perché io voglio avere la possibilità di usare tutta la mia fantasia senza tener conto del lavoro di altri a ovviamente non voglio che ci siano bambini al tavolo non voglio che ci siano bambini intorno al tavolo non voglio che ci siano bambini nella zona di 50 chilometri quadrati intorno al tavolo non devono esserci animali a meno che non siano aree macau anzi vorrei proprio un'area macau che facesse da comaster per l'intera partita ha il gruppo di gioco deve essere formato solo da ragazze estremamente affascinanti e uno ma un solo ragazzo asiatico in fondo mi sembrano tutte richieste più che ragionevoli comprensibile puoi aspettare solamente un attimo adesso torna adesso torna sarà interessante vedere la sessione commenti di questo video signori buongiorno e benvenuti al canale del master kai io sono il master kai il post ospite su questo canale questa settimana qualcosa possiamo dire un attimo controverso ma siamo sul finale di stagione quindi voglio parlare anche di argomenti che non sono proprio strettamente legati al gioco di ruolo non so se sono io che invecchiando ho cominciato a fare più attenzione a questo genere di cose o se una tendenza che si è veramente sviluppata sono negli ultimi anni ma sempre più spesso mi capita di imbattermi in persone che parlando sia dal vivo sia tramite social cominciano a fare richieste per entrare in gruppi di gioco partecipare a sessioni cominciando con in realtà domande e richieste relativamente ragionevoli per poi finire in pretese diciamo quanto meno bizzarre questo secondo me è dovuto al fatto che si sta andando un attimo a perdere il significato di che cosa sia nella sostanza un gioco di ruolo ma andiamo con ordine perché questo video ha seriamente la possibilità di trasformarsi in un rant ma per il penultimo episodio vorrei proprio evitarlo quindi andiamo con calma cominciamo facendo due premesse che secondo me per questo discorso sono assolutamente fondamentali la prima è che il gioco di ruolo è un'attività orientata all'intrattenimento di conseguenza al suo interno ci possono essere elementi che possono venire apprezzati o non apprezzati esclusivamente in base al proprio gusto personale io qui sul canale faccio video che riguardano gli aspetti tecnici che vanno dalla teoria della narrazione alla pratica della gestione del gruppo di gioco al tavolo questo è quello che in molte altre discipline artistiche viene chiamata l'accademia ma per quanto se voi seguiate in maniera pedisseca tutto quello che io vi dico di fare sul canale otterrete delle quest che sono tecnicamente molto buone possiamo anche dire tecnicamente perfette questo non vuol dire che quelle quest saranno più o meno apprezzate da parte dei giocatori un master potrebbe portare al tavolo una quest stilisticamente ottima che segue tutti i canoni del genere di riferimento di quello che vuole fare prende esempi da manuali da altre pubblicazioni quello che volete i suoi giocatori la potrebbero comunque trovare estremamente noiosa e comunque non soddisfacente e al contrario un altro master potrebbe improvvisare roba al tavolo in maniera talmente raffazzonata che la sua quest diventerebbe una collezione infinita di errori formali ma per i suoi giocatori quella potrebbe essere l'esperienza di gioco più interessante e di maggiore intrattenimento che hanno mai avuto nella loro vita chiamatelo l'effetto twilight tutto questo proprio perché quello che piace intrattiene diverte ognuno di noi riguarda principalmente la propria natura personale è una questione di gusto e come tale non deve essere né giustificato né ha senso stare a discuterne se su questo possiamo essere tutti d'accordo c'è però un secondo aspetto fondamentale del gioco di ruolo che spesso viene dimenticato cioè che il gioco di ruolo è per sua natura un'attività fondamentalmente collaborativa che voi state giocando a un gioco da scuola tradizionale in cui c'è un master che ha autorità sulla fiction e la manda ai giocatori o che state giocando qualcosa di più moderno in cui magari c'è un sistema per suddividere chi decide cosa all'interno del gioco più democratico tra i giocatori ogni gioco di ruolo alla sua base è un sistema che prevede che un gruppo di persone si mettano assieme e si raccontino a vicenda una storia cercando di ottenere il massimo intrattenimento possibile per il maggior numero di persone tra quelle presenti al tavolo come fare a ottenere questo massimo intrattenimento possibile bisogna discutere tra i vari membri del gruppo e dichiarare che cosa si vuole ottenere che cosa non si vuole ottenere di questo abbiamo già parlato in molti video recentemente nel video sulla fallacia di abeline ma il discorso grosso l'abbiamo fatto anni fa sul video della sessione 0 ve lo lascio qua sopra se dovete andarlo a recuperare comunque sappiate che il dialogo è l'unico modo per sapere che cosa gli altri vogliono e in base a quello si prenderanno accordi in modo che tutti li rispettino se mettete però assieme questi due aspetti fondamentali e apparentemente auto evidenti del gioco di ruolo emerge però quella che sembra una contraddizione cioè se gli aspetti di che cos'è intrattenimento dipendono dal gusto personale quindi sono assolutamente soggettivi ma al tavolo bisogna cercare di accontentare tutti cioè avere il maggiore intrattenimento possibile per la maggior parte delle persone possibili come è possibile che un singolo specifico giocatore abbia l'esperienza che sia di maggior intrattenimento possibile per lui sembra una domanda estremamente difficile ma in realtà la risposta è semplicissima non può ovviamente non può non vi capiterà mai di giocare una quest che sia esattamente quello che voi volete giocare proprio perché siete seduti al tavolo con altre persone che hanno un'idea diversa da voi su quello che è esattamente quello che si dovrebbe giocare lo scopo del gioco di ruolo non è quello di creare la quest perfetta che voi abbiate sempre sognato che sia cucita addosso esattamente al vostro personaggio perché l'unico modo possibile per ottenere quello sarebbe che o voi giochiate da soli a un gioco che vi siete scritti da soli apposta per giocarci da soli o che tutti gli altri siano con voi al tavolo non siano gli altri giocatori ma del personale di servizio che voi in qualche modo pagate per intrattenervi la cosa che succede in realtà nella realtà è che voi troverete un gruppo di persone che abbia in linea di massima idee simili alle vostre su che cos'è di intrattenimento e soprattutto su che cosa non è assolutamente di intrattenimento e voi accordandosi con quelle persone riuscirete ad avere un'esperienza di gioco che si avvicina il più possibile a quella che è la media delle vostre preferenze su che cosa sia un gioco di ruolo non sarà mai perfetta per nessuno ma si avvicinerà il più possibile senza che questo scontenti o lasci escluso qualcuno di quelli al tavolo questo è il modo per ottenere il massimo intrattenimento possibile per ognuno di voi senza però che le necessità di un singolo vadano a soverchiare le necessità di tutti gli altri e questo ci porta al titolo alla scena iniziale di questo video come dicevo all'inizio continuo a vedere sempre più persone lamentarsi che ai giovani d'oggi non sanno cos'è il gioco di ruolo o al contrario a c'è gente ossessionata su cose che non bisognerebbe più fare o anche a il master non mi lascia fare queste cose o a il nostro master lascia fare troppe cose a sto punto il gioco non è più divertente si la fuori ci sono un sacco di gruppi di gioco di ruolo che giocano in maniera che per voi sono assolutamente insoddisfacenti e che voi trovereste detestabili e hanno tutto il diritto di farlo perché questo è quello che loro ritengono intrattenimento come per qualsiasi altra forma d'arte o di intrattenimento in linea più generale ognuno ha il diritto ad avere le proprie preferenze a apprezzare quello che apprezza e non avrebbe senso pretendere che qualcuno pieghi il proprio intrattenimento personale al fatto che a qualcun altro quella cosa non piaccia è sicuramente possibile se entrate in un nuovo gruppo di gioco scoprire che il modo in cui quel gruppo gioca probabilmente non fa per voi e a quel punto potreste decidere di andarvene questo è sacrosanto anzi è la cosa migliore da fare tanto voi non vi divertireste e avere al tavolo qualcuno che palesemente si sta annoiando non è divertente per gli altri ma se continuate a cambiare gruppo su gruppo nella speranza che prima o poi troverete qualcuno che vi lascia fare tutto quello che voi volete fare ecco no il problema non è come giocano gli altri il problema sei tu mettetevi in testa che trovare un gruppo che giochi esattamente nel modo in cui volete voi non è possibile e anche nel caso lo troviate sarebbe semplicemente una coincidenza che il loro lavoro collettivo per trovare qualcosa che stia bene a tutti anche se non sia perfetta per nessuno semplicemente ha portato a qualcosa che è molto simile a quello che voi considerate perfetto perfetto volevo evitare che questo diventasse un rant invece è diventato una predica è comunque un miglioramento quando entrate in un nuovo gruppo di gioco o anche quando create un nuovo gruppo di gioco da zero con altre persone partite sempre dal presupposto che nessuno di voi ha il diritto di ottenere esattamente quello che vuole ma dovete trovare un accordo che stia bene a tutti oppure semplicemente lasciare il gruppo e ci sono gruppi che giocano da anni e anni c'è gente che gioca alle stesse persone letteralmente da decenni e continuano andare avanti proprio perché hanno compreso questo principio cioè che bisogna cercare di accontentare un po tutti ma nessuno può comandare nel gioco ora io so che ci sono molti di voi che state guardando che state pensando a ma io questo problema non ce l'ho mai avuto primo fatevi un esame di coscienza ho sentito molto spesso il discorso del no no ma io voglio solamente giocare normalmente sono gli altri che mi costringono a fare le cose a me basterebbe e poi un elenco e comincia a diventare sempre più lungo di richieste estremamente specifiche su quello che si vuole giocare che fondamentalmente è la base del problema cioè partire al presupposto che quello che vogliamo fare noi è una cosa normale sono gli altri che ci costringono a fare cose strane no ovviamente non è così ma anche nel caso effettivamente voi siate di mente più aperta meglio per voi salvatevi il link di questo video molto probabilmente vi servirà prima o poi inviarlo a qualcuno che sta esattamente cercando di convincervi che le sue richieste sono le uniche legittime e voi dovete fare quello in lui trova divertente questo è un altro di quei video che finiranno sotto l'hashtag master kai per il sociale probabilmente lo so già perché conosco la mia community diciamo comunque che per questo video è tutto quello dovevo spiegare l'ho spiegato adesso la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti quali esperienze avete avuto voi con giocatori irragionevoli o quali volta avete scoperto di essere voi l'irragionevole al tavolo o altre esperienze simili diciamo che in questo caso tutto può tornare utile soprattutto i master e i giocatori in formazione come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividete l'ho creato a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere notifiche e le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link del gruppo i telegram e server di disco dove si raduda il resto della community del master kai io sono il master kai e noi ci vediamo settimana prossima per il finale di stagione